Le imprese multinazionali sono un soggetto fondamentale della globalizzazione. Che cosa sono queste multinazionali? Se volete ci sono due punti di vista per guardare al problema. Il primo modo di guardare le multinazionali, che forse è quello più semplice, quello più intuitivo, è di guardare ad esse come a delle imprese, ossia delle imprese che hanno attività operative in più paesi. Ci sono delle definizioni statistiche molto precise, ma fondamentalmente il concetto è che un'impresa è multinazionale quando possiede delle attività produttive e operative in altri paesi e sostanzialmente controlla queste attività, ossia le gestisce direttamente e in modo integrato con quelle che sono le attività che queste imprese svolgono nel loro paese di origine. Quindi parliamo di imprese. Quando voi pensate che cosa sono le multinazionali, vi vengono in mente dei grandi nomi, dei grandi marchi, la Coca-Cola, la General Electric, la Shell. Queste sono tutte effettivamente grandi imprese, quelle che in inglese si chiamano grandi corporation, che hanno attività in più paesi e operano in più paesi. Essere una multinazionale vuol dire invece svolgere delle attività produttive in altri paesi. Implica investire risorse finanziarie in paesi terzi, ossia la Coca-Cola quando vuole aprire una filiale di distribuzione in un paese diverso dagli Stati Uniti, supponiamo in Francia, deve ovviamente investire, costruire dei magazzini, dei capannoni, delle reti di distribuzione, magari un impianto di imbottigliamento, deve investire in attività economiche. Quindi il secondo modo di guardare, se volete, alle multinazionali non è tanto quello di una serie di attività di imprese, come delle imprese, delle attività economiche, ma come dei flussi di investimento. La presenza di multinazionali implica che siano stati fatti degli investimenti economici da un paese verso l'altro paese. Ragioniamo di multinazionali, ragioniamo di flussi di investimento verso paesi terzi e flussi di investimento volti a gestire delle attività economiche. E questi flussi sono flussi ingenti, importanti, che in qualche modo hanno un impatto fondamentale su quelli che sono i conti internazionali dei diversi paesi.